E ora il dibattito sul referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo. Molte le iniziative in questo fine settimana per mobilitare i cittadini. Dal fronte del no arriva un duro attacco e una falsa riforma che va respinta perché restringe gli spazi di democrazia senza risolvere i problemi del Paese. Per i fautori del sì invece rende le istituzioni più efficienti e taglia i costi della politica. Sentiamo Dino Gardi. Dal versante Partito Democratico l'eurodeputata Pina Picerno intervenendo alla Mezzia sottolinea l'urgenza di rinnovare politica e istituzioni votando a favore delle riforme. Il sistema va sbloccato solo così le regioni meridionali potranno agganciare la ripresa e cambiare verso. E allora la domanda che devono farsi i cittadini del nostro mezzogiorno è noi siamo soddisfatti delle cose come vanno nei nostri territori? Siamo soddisfatti di una politica che non dà risposte, dei costi altissimi insomma delle cose che non funzionano. Se la risposta a questa domanda è sì siamo soddisfatti allora va la pena accodarsi a questa Macedonia indistinta del carrozzone del no. Se invece non siamo soddisfatti e vogliamo per davvero cambiare rendere questo un Paese più giusto, più veloce, migliore e allora non ci resta che votare sì il 4 di dicembre. Non mi dimentichi che erano.